Siamo con Diego Caserio, presidente del team Runner King. Diego, ho visto che comunque avete partecipato in massa a questi campionati ISOP. Vorrei che tu ci dessi un'opinione sulla vostra permanenza qua ai campionati italiani. Ma sì, grazie. In massa perché comunque è un evento che abbiamo sempre seguito dall'inizio stagione. La maggior parte del team è di casa al Perla, altri ragazzi del team arrivano un po' da lontano. Però quando il team chiama, il team risponde. Senti, manca veramente poco e poi partirai insieme a qualche componente del tuo team per Las Vegas. Sì, insieme a Michele Klapiz e Luca Gualtieri, che saluto. Fra 14 giorni partiamo per Las Vegas. Un divertimento e dopo vediamo cosa combiniamo col poker. Senti, aspettative per questa trasferta che andrei a fare a Las Vegas? Guarda, io sono stato tantissime volte in America, girandola in lungo e in largo. Ecco, porto due amici che non sono mai stati in posti fantastici e dopo ci sederemo a giocare a poker. Se riuscirà ad arrivare una bandierina anche da lì, sono soddisfatto. Quanto ci conti nel riuscire a fare un ottimo risultato? Un 80%, dai! Progetti invece per il vostro futuro, per quanto riguarda il team? Ci saranno delle grossissime novità più o meno a breve, qualche inserimento nuovo dopo un altro evento che stiamo dominando e si andrà avanti così. Senti, dietro le quinte, giù appunto quando ci siamo crociati, hai detto voglio essere presente a questo evento che è uno degli ultimi ricordiamolo del campionato italiano perché Giangia è un amico. Sì, io e Giangia ci siamo incrociati in battaglia ciclistica per tanti anni quando eravamo ragazzini e adesso ci siamo ritrovati con un'amicizia vera, si va avanti a frequentarsi. E per quanto riguarda invece il final table che ti appresti a fare, visto che ricordiamolo siamo a un tavolo finale, di cosa? Siamo i sei Runner King presenti, dobbiamo eliminarne due tra di noi, vediamo, io sarò uno dei candidati sicuramente, mi offro sempre volontario e dopo vediamo gli altri cosa combineranno. Grazie Diego, grazie veramente di essere stato con noi. Grazie a te, ciao! Grazie a te, ciao!